Ciao ragazzi, sono Gabri Costa. Siamo tornati ancora una volta nell'anno 2018 con questo videogioco della PlayStation 4, Marvel Spider-Man. Ricordatevi che questo è un contenuto aggiuntivo DLC, la città che non dorme mai. Siamo sempre nel primo episodio con il titolo La Rapina. Ascoltatemi, visto che siamo a Ice Kitchen, ci aspetta una sfida di screwball. Dobbiamo fare un'altra sfida impulso elettromagnetico. Non c'è bisogno che ve lo piego di nuovo perché ormai l'avete già capito tutti insieme come si fa. Si fa tutto nell'ordine corretto. Concentriamoci. Basta ho legato. I dispositivi a impulsi restanti bisogna disattivarli con la ragnatela. E quando c'è il fotobombing fate L2 più R2 e poi premete subito R1 quando la barra viola arriva al puntino verde. Dobbiamo seguire l'ordine. Dovete dirmi se vi stanno piacendo le sfide di screwball. Bene, sto già facendo in fretta. Non distrarmi, screwball. Fai anche un po' zitto. Ma Spider-Man va sempre veloce però quando oscilla o le ragnatele. Devo sbrigarmi prima dello scadere del tempo. Ah, nel seguente ordine. Bene, è il momento. Abbiamo finito. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Gabriosta vi saluta. Forse le sfide di screwball sono ancora più belle delle sfide di Taskmaster. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Seguitemi sempre ogni video recensisco. Detto questo, vi saluto. Noi ci vediamo alla prossima.